Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Lugina Giuseppe e oggi siamo al giopero rosso. Ciao Peppe, saluta. Ciao. Ciao, amore. Ciao, amore. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ciao, amore. Andremo a mangiare queste cose, non so se saranno buone, vediamo. Ciao, amore. Domani è complicata la terza. Molto buone. YouTube. Chi è. Ma che cazzo è qua. Ciao. Fate ciao a YouTube. Ciao. ho mandato la frutta di mare e ora gioco con il mio cugino saluta papà ciao 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 che bello papà vedete e lì papà oh oh un moscone per fortuna che l'abbiamo seminato è vero peppa per fortuna che l'abbiamo seminato con il moscone è vero? sì è vero oh mio sono franca morta peppa vieni no di nuovo ma il moscone ecco di nuovo l'abbiamo seminato è vero? è vero questo è tutto la piccola è vero papà ci siamo sì vai corri aiuto tu mi devi prendere ora oh mio dio io non voglio che il mio cugino mi prenda ecco perché sto facendo giro giro trono perché il mio cugino mi sta rincorrendo io odio quelli che mi rincorrono stop ora è stop ecco qui oggi manciamo queste cose come saranno?